Per me correre è importantissimo innanzitutto perché è libertà e poi perché fa bene al corpo, fa bene al fisico, aiuta tantissimo ad invecchiare anche bene. Faccio atletica da 32 anni, ho cominciato nell'80, ho fatto atletica di alto livello, mi sono divertito tantissimo, adesso continuo a divertirmi così, venendo sul campo e continuando ad allenarmi per gioco. È una gara meravigliosa che Valerio Piccioni organizza da tanti anni, soprattutto per ricordare chi purtroppo è scomparso, Michele è stato un grande atleta, un grande poeta, una grande persona e ricordare lui e ricordare tutte le persone come lui sono scomparse è una cosa meravigliosa. È una gara che sembra più che una vera gara, una grande festa dove partono 3.000 persone e più, tutte con la gioia di venire a correre per questa cosa molto importante. Un ricordo particolare va al mio caro amico Riccardo De Paulis che qui è morto purtroppo qualche anno fa e negli ultimi anni l'ho fatta sempre insieme al figlio per ricordarlo.